Salve a tutti ragazzi, da quanto tempo che non ci sentiamo Io mi ero bloccato alla recensione di Money in the Bank, la prima parte Perché volevo appunto provare come si vedeva su YouTube con questi tagli di video insomma E nel dettivo di registrare la seconda parte la webcam è andata a farsi fuori Perciò non ho potuto registrare la seconda parte E la mia prossima recensione sarà sicuramente quella di Summers del 2012 Allora, questo come già detto non è un report di robille Non è una nuova recensione, ma è un annuncio Un annuncio che io e Osimricchi94 faremo domani verso le 2,3 metri Un live nel quale parleremo di wrestling, giochi, tutto un po' E ovviamente i live sapete come funzionano Se volete partecipare a quelle domande può essere anche un'occasione abbastanza divertente E questo live è un opener quindi è aperto a tutti Chiunque vuole partecipare può partecipare Anzi anche è un'occasione per conoscerci anche meglio E tentare di far aumentare i nostri iscritti Come già detto domani lunedì 30 luglio Live alle 2.30 Soprattutto 3.30 Soprattutto 3.30 E sul mio canale Oda BLUE E su official channel Ehm Vi linkerò i miei I miei link di Google+, 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 e boh Google+, per chi volesse contestarmi o lo inviamo in una richiesta di amicizia per partecipare agli live questo è quello che avevo da dirvi appuntamento a domani ciao a tutti